Ho capito la porta? Tieni! E fai attenzione! Che cos'è questo? Bistecche! Bistecche? Di carne? Perché le bistecche sono dicimenti armato? Non sai cosa sono le bistecche? Non hai mai visto le bistecche? Sì, le ho viste, ma in questa casa... Silenzio! Non forno spiritoso! Vieni con me! Gastone! Gastone! Dov'è mio figlio? È uscito presto stamattina! Sempre per la strada a consumare da scarpo, quel don Androna! E io vado! E io vado! Vieni qua, che ti devo parlare! Come cameriere, come cuoco o come cocchiere? Come cuoco o come cocchiere? Quante volte devo dirti che non si cammina sui tappeti? I tappeti si sciupano! Hai capito? E non me lo far rivedere più! Stai pensando in me! Oggi abbiamo della gente a pranzo? E... Volta! Non guardare quello che io faccio! Da altra parte! Volta! Non ble...